Un'altra delle novità di Omega Smao 2011 è la serie di NAS BX. BX vista per performance e quindi parliamo di NAS che ha le tue prestazioni che consentono l'inserimento anche in ambienti di una piccola e media impresa. Per esempio qua possiamo vedere il nuovo modello BX4 con 4 dischi, esistono anche modelli a 6 baie per gruppi di lavoro fino a 50-60 utenti, qui di fianco vediamo BX12350R che è la novità effettiva di Smao appena annunciata in Italia, qui si tratta di un file server fino a 36 terabyte di capacità per ambienti di lavoro anche molto pesanti. Una delle caratteristiche è quella di poter gestire su tutte queste macchine i sistemi di videosorveglianza. Se andiamo a vedere un attimo i software, vediamo che i software rileva automaticamente quelle che sono le telecamere di videosorveglianza presenti sulla rete locale. Per ognuna di queste telecamere è possibile aprire una finestra che mi consente di vedere in streaming il contenuto ed è anche possibile direttamente dal pannello di controllo a avviare la registrazione di questa telecamera in diretta tramite la pressione del tasto oppure schedulandola, per esempio per accendersi durante la notte. In questo sistema, tutti i software è completamente incluso nel prezzo della file se non ci sono ulteriori licenze, né serve installazione di altro software se non sono altri dispositivi di netto.